amiche amici del corner Sampdoriano bentornati è appena finita Sampdoria Roma la Samp ha perso ma ha giocato secondo me un'ottima partita è una squadra che è stata chiaramente rigenerata nel morale dalla dal successo del penso di Venezia di ormai due settimane fa e quindi perde contro un avversario di tutto rispetto in grande forma tra i più entusiasti di questa fase del campionato la Roma che quindi eh colleziona il decimo risultato utile consecutivo sei vittorie quattro pareggi la squadra di Mourinho arrivava dal derby vinto in modo scintillante perentorio quindi era una squadra che faceva paura in tutti i sensi ma abbiamo visto una gara equilibrata in cui i portieri hanno lavorato poco da una parte dall'altra occasioni non se ne è viste tante la Roma l'ha vinta dimostrando di essersi evoluta anche rispetto alla gara del girone d'andata di fine dicembre eh il Doria lo sto vedendo ora si prende gli applausi della Sud finalmente tornata a soffiare alle spalle degli undici di Gianpaolo che come detto escono a testa alta da questa gara che ha avuto un canovaccio tattico abbastanza chiaro fin dall'inizio ricordo la gara d'andata era stata nel primo tempo soprattutto la Samp a provare a fare la partita con la Roma che aspettava il momento giusto per attaccarla alle spalle scoperta e e quindi quella fu una prestazione confortante della Samp all'epoca di D'Aversa che infatti portò via un punto dall'Olimpico oggi la Roma ha provato a farla la partita con appunto una strategia chiara quella di palleggiare con il suo giro palla difensivo la difesa a tre composta da Mancini a destra Ibagnez a sinistra e Smalling in mezzo che attirava la pressione dei tre componenti dell'attacco blucerchiato confermatissimo Sabiri Sensi trequartista è caputo a fare l'attaccante di sinistra diciamo in questo quattro tre uno due l'idea della Roma era sostanzialmente c'erano un paio principali ovviamente il grande classico quando si affronta la Samp aere di Gianpaolo e le squadre di Gianpaolo provare a pungerle sull'ampiezza e quindi eh sovraccaricare un lato con il pallone dove la Roma portava tanti giocatori provare a uscirne andando dall'altra parte dove ci sarebbe stato poi eh superiore rutanumerica e campo da attaccare per i giallorossi perché sappiamo che la Samp difende molto stretta e fa scivolare e stressa molto le mezzali eh nel lavoro di appunto eh spostamento da da una parte all'altra oggi le mezzali le hanno fatte con ottimi risultati in fase in in sede di applicazione tattica Candreva e e Torsby l'altro dispositivo tattico utilizzato dalla Roma di Murigno per mettere in difficoltà la Samp è stata è stato quello di eh mettere tanti giocatori nella costruzione della manovra perché oltre a eh cristante ai difensori centrali a Sergio Oliveira in mezzo al campo si abbassavano spessissimo Pellegrini e Mkhitaryan a mettere dubbi alla mediana blucerchiata che da parte sua tentava comunque di andare ad aggredire alta perché l'idea di Gianpaolo era quella di eh recuperare alto il il pallone in fase appunto di pressing è stata una partita che si è sviluppata in questo senso e in questo modo si è anche decisa perché così la Roma ha realizzato il suo bellissimo gol a livello di giocata collettiva eh trasformato da Mkhitaryan ma appunto sviluppato con una costruzione partita dal basso da destra sviluppata poi a sinistra con Pellegrini e Zalewski che si sono trovati a attaccare in superiorità numerica a Beresinski ecco questo è il classico esempio solitamente noi in Italia come cultura siamo abituati fin da subito a imparare che quando c'è un gol bisogna trovare il colpevole nella squadra che l'ha subito io non ne trovo sinceramente o meglio è una somma di tanti piccoli errori perché in questo caso eh la pressione è stata fatta ogni volta in ritardo e la Roma invece è riuscita a a saltarla raggiungendo appunto Zalewski che ha che ha crossato e poi ha permesso dopo il rimpallo a Mkhitaryan di eh decidere questo Samp Roma Zalewski è stata una componente importante anche uno uno delle novità più interessanti di questa Roma di di Murigno che dimostra di essere comunque un allenatore che non non ha paura di rischiare nel senso che si sta costruendo questo giocatore gli permette di sbagliare ma ne sfrutta le qualità la freschezza oggi Beresinski ha sofferto molto per contenere eh le folate del suo connazionale la Sampdoria da parte sua ha dimostrato comunque allora intanto sottolineo la grande prestazione della coppia centrale oggi confermata dopo il bel lavoro di Venezia Ferrari Collei che hanno sostanzialmente inibito Tammy Abraham che arrivava caldissimo dalla doppietta eh nel derby è anche vero però che è un discorso figlio di quello che dicevamo prima nel senso che Pellegrini e Mkhitaryan nominalmente mezze punte alle spalle del centravanti inglese spesso l'hanno un po' abbandonato in mezzo alla morsa del Gambiano e di Ferrari che quindi hanno avuto bel hanno fatto bella figura nel controllare il centravanti della Roma. Il Doria da par suo ha dimostrato eh detto delle cose che sono andate bene la lavoro difensivo un po' di angoscia per Beresinski bene la coppia centrale Murru mi è parso bello anche lui rigenerato un po' come tutta la squadra ha riacquistato fiducia come tutta la Samp eh dicevamo il problema è stato come ormai sappiamo insomma essere un tema consolidato la fase offensiva la capacità di rendersi eh pericolosi nel primo tempo il problema il difetto è stato Sensi che rispetto ad altre gare in cui l'avversario lo rispetta lo copre lo controlla in modo attento oggi non è stato tanto così nel senso che eh Sensi nel primo tempo ha avuto gli spazi che si è ritagliato per ricevere e teoricamente andare a far male non non l'ha fatto spesso ha sbagliato la scelta ha perso qualche pallone non da lui e non a caso è stato sostituito nel secondo tempo da Quagliarella con Sabiri che è andato a fare il trequartista tra l'altro Sabiri invece è un giocatore che si sta decisamente guadagnando certezze gerarchie anche a livello di leadership tecnica in questa squadra è un giocatore dal sangue caldo l'abbiamo visto anche nelle proteste insomma un giocatore che che può dare ed è indispensabile in questo momento anche perché appunto cambi non ce n'è l'ha detto Gian Paolo nel pre partita è una cosa che insomma Supriaga e Giovinco stanno mancando al momento sono state scommesse perdenti più per motivi fisici insomma sappiamo per quanto riguarda Giovinco e per motivi extra calcio per quanto riguarda eh l'Ucraino dicevo è entrato Quagliarella bene nel senso che comunque soprattutto nella prima fase del secondo tempo è riuscito a a mettere in difficoltà e lavorare bene soprattutto i palloni che gli sono arrivati però appunto Rui Patricio non ha dovuto spendere parate particolari ne ha fatto una eh non difficilissima nel primo tempo solo a zero a zero su su Caputo il giocatore della Sam che ha tirato di più è stato Sabiri eh tre tre conclusioni verso la porta eh una su punizione una controllando un bel pallone in area e insomma è qui che la Sampdoria deve provare a ehm a trovare delle delle alternative eh davanti per disordinare un po' gli avversari comunque la Roma ha finito col fiato corto questa partita preoccupata un po' eh la Samp ha collezionato qualche calcio d'angolo ma appunto pericoli eh sotto la traversa e dalle parti di Rui Patricio non ne sono arrivati detto di Quagliarella che è stato un cambio che ha dato qualcosa e ha aggiunto ehm insomma verve offensiva alla manovra eh bene anche l'ingresso di Tommaso Augello che ha sostituito Murro nell'ultima mezz'ora è tornato bene insomma non è riuscito a crossare ma ha lavorato bene i palloni che gli sono arrivati discreto anche Viera che ha sostituito eh Rincon sta prendendo anche minutaggio Simone Trimboli che può essere un giocatore che darà contributo in questo finale di stagione del del Doria finale di stagione che prosegue con il match del Dallara a Bologna si andrà a far visita alla squadra di Mijailovic a cercare i punti che mancano per questa salvezza che ora è un risultato alla portata ma che va ancora conquistato vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto aspetto i vostri commenti come sempre qui sotto